Siamo in compagnia di Guido Lembo. Guido, questa sera alle 21.15 in la piazza antistante al teatro di Rimaro ci sarà il tuo spettacolo. Faremo un bellissimo spettacolo perché siamo carichi e carichi e carichi. Poi mi aspetto tante cose da questo mercato, veramente. E poi provo una gioia immensa a venire sempre qua su, presso la mia squadra. Edinson Cavani quest'oggi è rappresentato ufficialmente al Paris Saint Germain. Qual è il tuo pensiero? Non ci andrei tanto appresso, veramente. Secondo me è stato molto… non me lo aspettavo da lui, effettivamente. Io che lo conosco bene ha fatto una cosa gravissima, sia lui che il nostro allenatore, ex allenatore. A questo punto cosa ti aspetti dal mercato e soprattutto cosa ti aspetti come regalo da De Laurentiis? Io penso positivo. Io penso che il Presidente è una persona che adesso ha da favore chi è. Capite che voglio dire? Perché non è un uomo che si sta a delle regole come ha fatto sia con Gavani che Mazzardi. Quindi deve fare uno squadrone. L'anno prossimo ci ha la mamma mia. Più della cembia vuole vincere lo scudetto. Dico, ma per la verità, è una cosa che ci manca. Tu l'hai vissuto gli scudetti? Io sì. E' pur io. Perciò è una cosa troppo bella. Come caricherai i tifosi stasera? Stasera? Che hai in mente? Eh beh, no no, ma io vorrei sfruttare un po' a Benitez. Hai capito? Sfruttare un po' a Benitez. Non ci resta che augurarti buon appetito. Io vedo questo allenatore che è carismatico, bello, allegro, si apre finalmente. Qua prima non si potevano toccare i giocatori, né allenatori. Finalmente abbiamo una persona che è disponibilissima. Chi aspetti alla taverna? Il primo giocatore che arriverà? Ma Paolo è stato... Dei nuovi. Ah, dei nuovi. Chi ti ispira più follia da notte? A me piacerebbe Iguain perché facessimo un mazzo tanto. Te lo giuro, guarda, io ci credo molto, eh. È vero? Invece secondo te nella notte chi potrebbe essere un re della notte? Ma della notte? Quale notte però? Sia delle notte di Champions che delle notte della taverna. Come calciatore, eh? Certo. Uno è lo stesso portiere, è il Giorgio Sersas. Ce l'ho vita, ho giù all'anima e il cuore, è bene tutto entrambiato, eh. Effettivamente sta facendo una bella squadra. Perché se pensiamo agli vari Martens con la Con, come si chiama? Caleta. 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 E sono giocatori che sono affinato. E poi non dimenticate che abbiamo l'asso della manica, che insegne. E quest'anno sarà, secondo me, un'esplosione proprio. Grazie. Eh? Grazie.